Ragusa e Ibla, corolla a mura secco lungo la strada panoramica, l'opposizione all'attacco sullo stato in cui versa il centro storico. Modica, nominato ufficialmente alla nuova giunta, Giordianello Assessore ai Servizi Sociali e Paolo Garofalo, vice sindaco. A Cate, al trascorso per l'amministrazione Caruso, si dimettono il vice sindaco Gianni Iacono e l'assessore alla cultura Emanuele Caggia. Ragusa, costituito un comitato a livello provinciale per il rilancio e il potenziamento della rete ferroviaria Iblea. Vi ritrovate ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. Come avete potuto sentire dei titoli, apertura di questa edizione dedicata all'ennesimo crollo a Ragusa. Sabato, sotto il peso delle violenti piogge, è crollato un tratto del muro a secco della strada della panoramica di Ragusa-Ibla. Per fortuna, nessun danno a cose o persone, ma solo tanta paura, soprattutto per i residenti della casa sovrastante, che per sicurezza hanno lasciato l'abitazione. Ma vediamo il servizio. Nuovo crollo a Ragusa. Questa volta si tratta del muro a secco della strada della panoramica di Ragusa-Ibla in via Ottaviano, nei pressi della chiesa della bambina. Forse a causa delle abbondanti piogge di venerdì sera e sabato, o forse a causa dell'incuria in cui versava, il muro non ha retto e sabato pomeriggio è franato. Il tratto interessato è alto più di due metri e, come potete vedere dalle immagini, potevano esserci gravi conseguenze per la casa sovrastante, che per sicurezza è stata comunque evacuata. Nessun danno a persone o cose. Sul posto, subito dopo il crollo, denunciato da alcuni passanti, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e controllato il muro e la casa. La zona interessata dal crollo è stata transennata e vietata al traffico veicolare, nel tratto che va dalla chiesa di Ibla a Largo San Paolo. Per oggi è previsto un sopralluogo con vigili del fuoco, esperti del Comune e del Genio Civile, per individuare le cause reali del crollo e soprattutto monitorare l'intera area per verificare lo stato delle strade e delle case. E quello di sabato è l'ennesimo crollo per Ragusa. Si tratta di una situazione sempre più pericolosa per la gente comune. Ed è solo un caso che sinora non ci siano stati feriti o, peggio ancora, vittime. E su questi episodi abbiamo sentito il consigliere comunale del PD, Giovanni Lauretta. Tutta colpa dell'acqua. Potremmo commentare così il crollo del muro della panoramica di Ibla, il secondo a distanza di pochi giorni, l'ennesimo in una quindicina d'anni, perché effettivamente l'acqua ha una certa responsabilità nei crolli, sembra averla avuta. Il crollo del fognolo sul viale del Fante è stata la causa dei cedimenti dei campetti della Villa Margherita nel 2010. Le infiltrazioni di acqua sono la causa del dissesto nel costone di Corso Mazzini, quando nel 2009 un masto si staccò andando a cadere sulla strada. L'acqua potrebbe essere il motivo del crollo della palazzina di via dalla chiesa, ma sono ancora in corso esami più approfonditi. Infine l'acqua, con le piogge e le infiltrazioni, ha contribuito, ancora non si sa in che percentuale, al crollo di sabato. Individuata la causa, sarebbe dunque logico pensare di poter predisporre adeguatamente un piano di monitoraggio e di messa in sicurezza delle case, strade e costoni pericolanti, perché quello della sicurezza è il tema che al momento preoccupa di più. In tutti questi crolli un evento si è sempre verificato, infatti, un evento che ha fatto sì che il semplice cedimento non si trasformasse in tragedia. Nessuno è rimasto ferito. Destino o fortuna, chissà, fatto è che per varie volte il dramma poteva verificarsi e invece tutto si è risolto nel blocco del traffico, negli interventi dei vigili del fuoco e nella paura per i passanti o per i residenti vicini. Niente di più. La città in questi giorni si è interrogata. A scendere in campo sono stati per primi i partiti politici. A tutto a scapito del centro storico sono state le scelte dei nuovi, dei piani costruttivi invece alla periferia di Ragusa, dove si sta devastando un territorio delle aree agricole che si sta costruendo a macchia di leopardo e un centro storico che tutti i giorni troviamo sempre più abbandonato, anche se qualche opera si tenda di fare, ma non è appetibile ancora al rientro dei cittadini in centro storico e vediamo che anche le attività commerciali soffrono notevolmente di questo abbandono. Al di là del dibattito politico resta il fatto che, come spesso accade, a rischiare la gente comune che nulla sa dei sopralluoghi, dei piani urbanistici e di ogni altro cavillo burocratico. Sarà stata l'acqua, ma la colpa è anche di chi nulla fa per proteggere la vita di questa gente. E ci spostiamo adesso a Modica, dove sembra definitivamente conclusa la crisi amministrativa. Questa mattina infatti è stata resa nota la composizione della nuova giunta, la terza da quando è sindaco Antonello Buscema. Al via a Modica e il Buscema a terre, la notizia di poche ore fa, l'accordo è stato ufficializzato e il nuovo assetto assessoriale è stato trovato. Definitivamente alle spalle dunque le vicende degli ultimi mesi tra PD ed MPA, tornati a destra i due partiti della maggioranza. Ecco allora i componenti, tra nuovi e riconfermati, dell'aggiunta Buscema a terre. Giuseppe Sammito, assessora ai lavori pubblici all'urbanistica, Giovanni Giordanella, con delega ai servizi sociali, Giovanni Spadaro, assessora ai servizi ambientali, al verde pubblico, ai servizi cimiteriali e al centro storico, Anna Maria Sammito, con delega alla cultura, all'UNESCO e ai progetti europei, Nino Frasca Caccia, assessore allo sviluppo economico e al contenzioso e ancora Paolo Garofalo, nominato vicesindaco, con delega al turismo, allo spettacolo, alla polizia municipale e all'edilizia popolare, Santino Amoroso, assessore al bilancio, alle partecipate e all'autoparco e Tato Cavallino, con delega alle manutenzioni, alla protezione civile, al personale, alla pubblica istruzione e allo sport. I neoassessori, dopo la presentazione al Consiglio Comunale e il consueto giuramento, riprenderanno al più presto i lavori rallentati da questo impasse politico-amministrativo. Ma vediamo in questo servizio cosa è successo in queste ultime settimane a Modica, dopo le dimissioni dei tre assessori dell'MPA, che hanno portato ad una interruzione, a questo punto possiamo dire momentanea, dei rapporti con il Partito Democratico e soprattutto cerchiamo di fare il punto sui nuovi equilibri che si sono raggiunti nella Giunta. PD ed MPA è pace fatta. La nuova Giunta Ter da qualche ora è stata resa nota e a Modica la vita politica-amministrativa può tornare alla normalità. Dopo settimane difficili, la seredità riacquistata può certamente tranquillizzare il sindaco Buscema e gli esponenti dei due partiti di maggioranza. Meno lieti forse le forze politiche di opposizione che avevano sperato nelle dimissioni anticipate del primo cittadino, rimasto per qualche giorno con l'appoggio del solo PD. Ma in fondo il nuovo accordo non dovrebbe stupire più di tanto, si tratta infatti dell'ennesimo rimpasto che con una certa frequenza il Partito Autonomista rivendica. La cosa che stupisce è che questa volta non si sia trattato solamente di seggi in Giunta, ma di nuovi personaggi. E il giochetto, diciamo così, a sentire nuovi nomi sembrerebbe riuscito. Cinque degli otto componenti della Giunta, quelli che nulla centravano nella vicenda, sono usciti in columi dalla tempesta essendo stati riconfermati assessori, anche se con deleghe diverse. Riconfermato assessore allo sviluppo economico e contenzioso Nino Frasca Caccia, Anna Maria Sammito, ex assessora alla cultura, centro storico e area archeologica, perde adesso il centro storico che va a Giovanni Spadaro, prima capo di ambiente, manutenzioni, sport e servizi cimiteriali, ora invece assessore ai servizi ambientali, al verde pubblico e servizi cimiteriali e, come detto, al centro storico. Giovanni Giurdanella, prima assessore all'urbanistica e alla protezione civile, ora si occuperà invece di servizi sociali che durante i giorni di tempesta si pensava il sindaco dovesse tenere per sé. Giuseppe Sammito, invece da assessore nel Buscema, Bissa e lavori pubblici e società partecipate, mantiene adesso solo i lavori pubblici a cui si unisce l'urbanistica. Questo per quanto riguarda i 5 survivor, novità invece per quanto riguarda i tre seggi dell'MPA. Santo Amoroso, prima capo del bilancio, finanze e patrimonio immobiliare, adesso dirige le partecipate all'autoparco, mantenendo naturalmente il bilancio in quanto considerato l'uomo giusto al posto giusto. Paolo Garofalo, prima assessore ai servizi sociali, personale ed edilizia popolare, adesso è il nuovo assessore con deleghe al turismo, allo spettacolo, alla polizia municipale e all'edilizia popolare, ma soprattutto il nuovo vice sindaco della città. Fuori dai giochi dunque Enzo Scarso, che a questo punto era il vero obiettivo finale delle dimissioni della minacciata rottura MPA-PD. Al suo posto come terzo uomo del partito autonomista è in trattato Cavallino a cui sono state assegnate varie deleghe, manutenzioni, protezione civile, personale, pubblica istruzione e sport. Dunque l'MPA conserva tre seggi, fa fuori un suo uomo, ne mette un altro e lo premia con diversi assessorati, ma soprattutto mantiene il bilancio. Il PD, dal canto suo, mantiene la sindacatura. E torniamo ad occuparci adesso del blitz della Guardia di Finanza al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello a Vittoria. Continuano infatti le reazioni del mondo politico con l'amministrazione comunale che ha auspica chiarezza. Mercato ortofrutticolo di Vittoria ancora sotto i riflettori. Dopo il blitz della Guardia di Finanza che ha portato a sequestro di 15 box di venerdì scorso, continuano le reazioni del mondo politico. L'amministrazione ha discusso della delicata questione durante un incontro al quale hanno preso parte anche i vertici del CDA delle MAE, dell'AMI o esperti e consulenti. Prendiamo atto, dichiato il sindaco Nicosia, delle ulteriori emergenze e dei conseguenti sviluppi che tale operazione comporterà ed auspichiamo che venga fatta piena chiarezza e si abbia un esito il più celere possibile dell'attività inquirente a tutela della stessa struttura mercatale. Nei prossimi giorni Nicosia convocherà la Commissione di Mercato. Al termine dell'istruttoria penale continua il primo cittadino. Si potrà valutare quali figure abbiano arrecato danni al mercato, all'economia agricola e di conseguenza alla città al fine di un'eventuale costituzione di parte civile del Comune. Inoltre la Giunta proporrà entro breve tempo, al massimo consesso ai cittadini, il rinnovo del regolamento di mercato. Il tutto in raccordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei produttori agricoli e dei commissionari ortofrutticoli. E anche il consigliere comunale Francesco Aiello è intervenuto sul blizzo delle fiamme gialle, sostenendo che si tratta di un nuovo inizio per la struttura mercantile. Finalmente, aggiunge Aiello, si vede un barlume di luce e si spera di poter uscire il prima possibile dal tunnel. L'auspicio è che si possa ripartire con il pieto giusto e ovviamente nel pieno rispetto della legalità. E a proposito del mercato ortofrutticolo di Contrada a Fanello, sono stati dissequestrati nel pomeriggio di oggi 6 dei 15 boxe, quali le fiamme gialle avevano posto i sigilli. A presentare l'istanza di dissequestro sono stati difensori dei titolari dei boxe. Diversi infatti tra i titolari hanno presentato ricorso, sostenendo che non sussistevano gli estremi per il sequestro che di fatto ha bloccato l'attività di vendita del prodotto degli agricoltori, costretti a rivolgersi ad altri concessionari per vendere la propria merce. E ci spostiamo adesso a Dacate dove si sono dimessi questa mattina il vice sindaco Gianni Iacono e l'assessore alla cultura Emanuele Caggia. Ma sentiamo i motivi in questo servizio. Non c'è pace per l'amministrazione Caruso a Dacate. Sono arrivate in mattinata le dimissioni dell'assessore della voce pubblica e vice sindaco Gianni Iacono e dell'assessore al turismo e alla cultura Emanuele Caggia, entrambi del PDL. A spiegare i motivi di questa decisione è stato l'oramai ex vice sindaco Iacono che, contattato telefonicamente, ha parlato di una scelta politica che intende dare una scossa alla città di Acate. Per Iacono infatti il clima che si respira in città è alquanto pesante e il cicchirema contro il bene della città ed ancora per l'ex assessore è nato un continuo massacro che punta a screditare gli assessori a livello personale e non solo a livello politico. A questo punto Acate dovrà ripartire da zero e le dimissioni di Iacono e Caggia suonano come l'ennesimo colpo per l'attuale amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Caruso. Solo qualche giorno fa lo ricordiamo l'opposizione era riuscita ad eleggere il nuovo presidente del consiglio comunale Giuseppe Di Natale che ha preso il posto del dimissionario Giuseppe Leone. Ad un anno dalle elezioni la città di Acate viveva un altro momento di crisi politica ed amministrativa. Difficile che vi siano altri stavolgimenti all'interno della maggioranza che sostiene il primo cittadino. Di sicuro vi è un malcontento diffuso che ha portato prima Leone e adesso Iacono e Caggia a defilarsi forse per evitare di esporsi troppo in vista delle elezioni del prossimo anno. Intanto Luigi Denaro consigliere di opposizione attribuisce le responsabilità dell'attuale situazione al sindaco Giovanni Caruso, reo a suo giudizio di aver fatto intorno a sé terra bruciata creando questi malcontenti sia all'interno del consiglio comunale sia all'interno della giunta dove ci sono stati vari avvicinamenti con cambi di maggioranza. E intanto si attende ancora che si è fatta chiarezza sulla vicenda dell'incompatibilità tra il sindaco e la moglie consigliere comunale alla luce della bocciatura del decreto salva parenti. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri di Vittoria hanno provveduto a deferire all'autorità competente quattro persone responsabili di vari reati. Segnalate quattro persone. Nel corso dei servizi di controllo i carabinieri di Vittoria hanno deferito quattro persone. In particolare un Vettorius di 48 anni pluripregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale è stato sorpreso in via Gaeta a bordo di un ciclomotore condotto da un altro pregiudicato. Un tunisino di 21 anni domiciliato nella città Iparina, celibre e bracciante agricolo pregiudicato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato sorpreso in via San Martino ed ha inoltre provato a fuggire nel momento in cui è stato avvicinato dai militari che gli chiedevano di esibire documenti. Ed ancora un rumeno di 28 anni incenzurato è stato deferito poiché dopo la perquisizione della propria autovettura e sono stati trovati nel vano portabagagli due contenitori in plastica contenenti circa 25 litri di gasolio nel quale non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Infine un altro rumeno di 23 anni è residente ad Acate, celibre e bracciante agricolo pregiudicato sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di due grammi di hashish. Un uomo di 40 anni originario di Rosolini ma residente a Pozzallo è stato denunciato per tentati abusi su una bambina di appena 10 anni. L'uomo avrebbe tentato di combire atti sessuali sulla minorenne. Pare che il rosolinese, un commerciante, avrebbe attirato col d'inganno la bambina nel suo negozio di abbigliamento per poi cercare di approfittare. La bambina sarebbe poi riuscita a divincolarsi e a fuggire raccontando ai genitori quanto è accaduto. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.